e ragazzi mi raccomando like e iscrizione al canale ma soprattutto se mi volete dimostrare un segnale di affetto l'iscrizione al canale gratis io vi prometto su questo canale non esisteranno mai donazioni abbonamento sarà sempre tutto gratis perché per come la vedo io l'inter deve essere di tutti soprattutto parlare con un tifoso dell'inter come me perché io sono un semplice tifoso dell'inter come voi non esiste pagare nulla anche se c'è gente fa pagare non sa nemmeno cos'è questo ma quello è un altro discorso ognuno è libero di fare cosa vuole eh ma iscrizione al canale gratis e campanellina occhio alla Real Sociedad la gente sta parla e bottiglia e Real Sociedad io dissi guarda che l'ho vista giocare un po' attenzione l'anno scorso quest'anno l'ho rivista giocare ieri contro Real Madrid e ti dico attenzione alla Real Sociedad anche perché è una squadra tosta ok che giocano molto sulle fasce difendono i cinque ripartano veloci e mi hanno fatto veramente un'ottima impressione anche perché hanno una linea difensiva molto molto alta e difendono i cinque ma hanno delle ripartenze velocissime hanno dei giocatori molto forti tra cui il giapponese il Kubo che è una seconda punta Merino un centromampista Mancino fortissimo nelle doppie fasi Barre Nexea un'ala sinistra che rientra sempre per calciare con il destro e Ojaranzabal anche Ojaranzabal molto molto forte anche lui è un esterno l'altro una seconda punta attenzione perché sono forti hanno quattro quattro cinque giocatori veramente veramente molto bravi attenzione stava mincendo una zero sono andati su due a zero contro il Real poi dopo glielo hanno annullato come è riuscito il Real a perforarli con le mezzale gli inserimenti degli esterni cosa e secondo me dovremmo fare anche noi perché soffrano un po' sulle fasce la Madrid con gli inserimenti delle mezzale gli esterni poi dopo alla fine ha fatto quello doveva fare io ti dico che secondo me Zaghi non cambierà tantissimo degli undici titolari come stanno scrivendo i vari portali web e giornali online proprio perché la Real Sociedad è una squadra pericolosa è una squadra pericolosa e la partita di ieri secondo me gli ha dato sicurezza oltre a consapevolezza di essere forti perché questa è una bella squadra poi il campo deciderà tre a zero per noi quattro a zero due a zero per loro il campo è tutta un'altra cosa ma io ieri ho visto una squadra pericolosa attenzione a chi stappava le bottiglie la Real Sociedad non è una passeggiata è scoppiata la Pippo Franco Mania la Mkhitaryan Maria ora Mkhitaryan nel centromapista più forte del mondo cioè un giocatore io mi ricordavo Mkhitaryan al Manchester United quando era il numero dieci ragazzi era un giocatore clamoroso lui giocava molto più avanti da giovani forse qualcuno non lo conosceva Mkhitaryan ma per il giro palla veloce per la qualità di corsa per la lettura tattica per la tecnica assist ti riporta gol ma è un centromapista totale quando vi dicevo la settimana scorsa non può entrare frattesi al posto di Mkhitaryan ci sono i video ti dicevo frattesi non può giocare al posto di Mkhitaryan se guardi le idee di Inzaghi devi giocare al posto di Marella no Mkhitaryan non lo può togliere da lì perché cosa ho detto la settimana scorsa perché da quella parte Inzaghi vuole uno tecnico che sappia far girare la palla veloce inserimento che sappia tirare in porta serve uno come Mkhitaryan frattesi non è il sostituto di Mkhitaryan la caratteristica non l'ho sentito dire da nessuno ma te la dico io la caratteristica perché secondo me è così e non ho la verità in tasca la caratteristica è spicca di questo lanciatore perché è facile dire forte tecnicamente fa gol fa assist corre è il suo dosaggio e per come si dosa durante la partita fateci caso lui arriva pur avendo 34 anni arriva al novantesimo che corre sempre nei primi minuti se ci fate caso lui parte sempre in maniera un po' lenta per poi dopo andare a crescere sempre negli ultimi minuti lui si da si sa dosare in una maniera incredibile il suo dosaggio a livello fisico atletico è una roba incredibile perché è un giocatore con la testa ora tutti a parlare della Tula la Tula è meglio è meglio della Lula anche il giornale rosa madonna che paura ragazzi miglio verde ha fatto i sei i sei a zero contro l'epone ieri guarda ho le mutande marroni guarda di miglio verde lucaco ho una paura di miglio verde guarda tremo ha fatto un sei ha fatto i sei a zero contro l'epone hai visto cosa scrive stamattina sempre il giornale rosa sta facendo degli allenamenti specifici marcus turam detto ticus per gli amici sul tiro in porta cosa ti avevo detto un mese fa lui se migliora il tiro in porta e incomincia a prendere un po' più di confidenza con la porta parliamo di un calciatore l'anno scorso ha fatto tredici gol e sette assist in bundesliga non in congo tredici gol e sette assist in bundesliga non in congo attenzione se lui comincia questo cosa ti sta a significare lo scrivi la gazzetta dello sport con i zaghi sta facendo gli allenamenti specifici sul tiro in porta se prende sicurezza e consapevolezza e migliora nel tiro diventa più freddo sotto porta l'inter deve fare subito una cosa nel giro di qualche mese togliere la lausola qualcuno di voi ora dirà giuse è matto te lo dico io se questo migliore comincia a fare i gol e deve fare togliete subito la lausola lo so che sono 98 milioni sarò un matto ma io te lo dico togliete la lausola non è che Arnautovic mi sta sui coglioni ragazzi perché Arnautovic a livello tecnico tattico dieci volte meglio di Lukaku parlo a quelli che sbavavano per Lukaku che ora sbavano per Arnautovic Arnautovic era un acquisto io non avrei fatto ma ti sto dicendo che rispetto a Lukaku Arnautovic soprattutto a livello tattico e per come gioca in zaghi è un upgrade perché comunque lui ti può dare una mano non è un bomber perché te l'ho detto segna molto più turam di lui basta guardare lo score ma è un attaccante ti fa segnare fa giocare bene la squadra solamente dei dubbi sulla sua tenuta fisica perché ancora lo vedo un po' pesante lo vedo un po' macchinoso è normale se tu lo paragoni a Turam sembrano tutti dei pali della luce perché Turam va a duemila lo vedo ancora un po' fuori forma lo facesse giocare i Champions contro la Real Sociedad magari vediamo cosa fa non ce l'ho con Arnautovic più che ditti è un upgrade di Lukaku non so cosa dirti quindi Marcus sta migliorando anche nel tino in porta sta migliorando nella consapevolezza nella sicurezza perché qui sta parlando di un calciatore top punto e basta quindi vediamo e vedremo sicuramente una squadra nostra volta contro la Real Sociedad perché te lo ripeto ieri sera ho rivisto gli ispezioni della partita mi hanno fatto impressione sono veramente forti poi quello non vuol dire che noi faremo uno a uno dureremo fatica magari l'Inter va lì e viene da quattro quello non vuol dire ragazzi occhio a dire che il Milan è vergognoso il Milan non è vergognoso attenzione è l'Inter che è troppo più forte ciao Inter anzi guarda Grazie a tutti Grazie a tutti